Selezione di alette stile messicano Oggi vi porto con me da Mario Sbrasserie Locale situato vicino alla base di Aviano Ma forse si capiva dai dollari sul muro Iniziamo con una bella birretta scura Per poi passare a queste alette fritte con salsa barbecue Panatura fantastica Poi ho assaggiato queste lemon paper Che sinceramente pensavo non mi piacessero tanto Invece quando le ho assaggiate ho detto che buone E il pollo poi E' arrivata l'ora di quelle con la salsa teriyaki Emanavano un odorino lì già da un po' Dolcine e saporitissime Di queste invece avevo un po' paura Beh essendo in un posto dove cucinano Tex-Mex Piccante Commenta con piccante se voglio una challenge con queste alette Ho finito inzuppando dentro la salsa range quelle fritte Le alette che ho apprezzato di più